Faccio il video così in macchina, con il braccio che muove la telecamera, con la maia del lavoro ancora indossata perché è stata una partita di merda, quindi è giusto che il video sia altrettanto di merda per poter essere il più coerenti possibili. Usciamo subito, ai ottavi di finale, contro la Svizzera, una partita semplicemente vergognosa. Allora, non possiamo neanche dire che non ce l'aspettavamo, perché comunque questo europeo è stato portato avanti all'insegna delle prestazioni orrende. Con l'Albania diciamo che ci è andata bene, dopo aver iniziato in maniera vergognosa con un gol dopo 23 secondi subito si è riuscito comunque a rimontare semplicemente perché eri comunque più forte tecnicamente e si è riuscito a rimetterla sui binari giusti. Ma con Spagna, Croazia e oggi ho visto delle prestazioni veramente imbarazzanti. Io, quando siamo riusciti a passare il girone, in quel modo ho pensato, ok, magari è destino che tu dai ottavi ti svegli e cominci a portare avanti un percorso diverso. Mi viene in mente, chiaramente raccontatomi, il Mondiale 82 che sei riuscito a passare a fatica e i gironi non sai neanche tu come e poi alla fine hai vinto il Mondiale. Perché comunque quando arrivi alla fase di eliminazione diretta ogni tanto diciamo che le motivazioni cambiano, diciamo che la testa ti dice perdi e esci, invece i gironi magari pensi posso andare avanti. Non lo so, erano tante piccole speranze tutte insieme che sono svanite praticamente in poco più di qualche minuto. perché già dall'inizio di questa partita si era capito che sarebbe stata una prestazione fallimentare. Non pensavo così male, veramente, perché come detto le ultime prestazioni erano state negative, ma speravo in qualcosa di più e non di meno. Siamo riusciti a sbagliare praticamente di tutto, a non riuscire a dare un minimo di brio alla manovra, sbagliando continuamente il passaggio, non riuscendo a fare più di tre passaggi di fila. E la cosa che più mi preoccupa è che la Svizzera ha vinto meritatamente, potendo anche fare più gol, senza mai alzare troppi ritmi. Cioè io, per carità, faccio i complimenti alla Svizzera che ha fatto una bella gara, sono ampiamente e meritatamente ai quarti di finale. Però, guardando come hanno giocato, mi è sembrato quasi come se andassero a un ritmo semplicemente normale, un ritmo pacato e noi non siamo riusciti minimamente a stargli dietro, non siamo riusciti mai a impensierirli, a metterli in difficoltà, siamo sempre stati lì a guardarli, a guardarli giocare e soprattutto a lasciare i loro giocatori più importanti, liberi, in area di rigore. I gol sono un esempio di quello che è stata la partita, giocatori che hanno potuto passarsi la palla senza problemi, senza avere nessuna difficoltà, nessun giocatore ad andare ad impensierirli. Vargas che fa col tiro a giro al limite completamente solo, Freuler lasciato libero in aria con i centrocampisti che non sapevano neanche dove andare. Non so neanche di chi può essere effettivamente la colpa. La prima cosa che mi può venire da dire è che, a parte Donnarumma e Barella, gli altri sono tutti giocatori di medio livello. Non ce n'è nessuno che ti può cambiare veramente la partita. Cioè, non fraintendete, non parliamo di gente completamente scarsa, ma non c'è nessuno che tu dici ti cambia la partita da solo. Sono quei giocatori che magari in squadre ben collaudate ti riuscirebbero tranquillamente a dare un buon contributo, ma tutti quanti messi insieme non ti riescono a dare nulla. Difensivamente parlando, sia con Calafiori, sia con Mancini stesso, con altri, hai sempre regalato continue possibilità ai tuoi avversari. E anche a centrocampo non c'è mai stata quella continuità di manovra, quell'idea che tu potessi effettivamente creare qualcosa. Sei sempre andato a casaccio. Infatti, l'occasione più grossa che abbiamo avuto oggi è stato un possibile autogol di un difensore loro. E io ho pensato, o tu per come sai giocare è l'unico modo con cui puoi riaprirla. Magari fa il 2-1, loro magari si mettono paura e riesci in qualche modo a rimontarla miracolosamente. Ma quel gol non è arrivato e fondamentalmente è giusto che tu sia uscito. E viene da dire che, guardando quello che è stato oggi, era meglio forse uscire già con la Croazia la scorsa partita. Poi è normale, uno comunque ci spera sempre di andare avanti. Come ho detto, sapevamo che non avevamo meritato. Però, che ne sai, a un certo punto magari cominci a giocare meglio e vai avanti. Diciamo che rispetto all'europeo passato, si era capito fin da subito che non riuscivamo a giocare bene. Tre anni fa, al contrario, sembrava che effettivamente potessimo dire la nostra contro chiunque. si è riuscito a vincere subito 3-0 con la Svizzera, poi a vincere con il Galles. La seconda, oddio, non me la ricordo la seconda con chi è ben giocato. Oh madonna, c'è un voto di memoria. Però comunque già sembrava che effettivamente potessimo far bene. E poi dai ottavi in poi hai fatto un percorso straordinario e anche con un pizzico di fortuna si è riuscito a portarti da casa. Questo europeo invece è stato, secondo me, fallimentare. Ha confermato ancora una volta quanto tecnicamente questa squadra sia limitata. Cioè, davanti, Scamacca, sembrava il fantasma di quello visto con l'Atalanta. Reteghi ci ha provato, ma è un giocatore, secondo me, modesto. E tutti gli altri male. Guardandola dal punto di vista romanista è stata un disastro. Vuoi per le tante partite giocate? Anche se penso che anche le squadre delle altre nazionali avranno giocato comunque un buon numero di partite. Però Mancini ha esordito sta partita e è meglio che non mi esprimo. Pellegrini è entrato dopo perché le altre che ha giocato titolare... Pochi altri. Cristante, mediocre. Tutti quelli che abbiamo fatto giocare... Shalawi è esordito oggi e è uscito dopo un tempo. Nessuno ha fatto bene, ecco. Cioè, io ripeto, di questo europeo l'unico che salvo è Donnarumma. L'unico che mi è sembrato veramente costante a livello positivo di rendimento è stato lui. L'unico che ti ha permesso di non uscire ai gironi, l'unico che ha fatto veramente il suo, che ha sgridato gli altri, che posso definire senza troppi giri di parole un top player. Cioè, proprio un giocatore forte. Uno di quelli che tu dici il Modric della Croazia, il Ronaldo del Portogallo, il Messi dell'Argentina... Per fare qualche esempio così, ecco, noi abbiamo Donnarumma. E il problema è che, a parte lui, il resto è tutta una squadra di medio livello. Una squadra che non può certo andare lontano, soprattutto se poi gioca partite di questo tipo. Squadre lunghe, squadra che non riusciva mai a imporsi tecnicamente sui propri avversari. Non so che dire, veramente. Cioè, come hai detto, mi aspettavo male, non così male. Adesso vediamo un po' chi ci detronizzerà, se così possiamo dire, dall'europeo. Era difficile pensare di vincerlo due volte di fila. Questo ormai l'avevamo messo in conto. Ma infatti io non pensavo e non chiedevo di vincerlo quest'anno. Ma quantomeno di fare un percorso più che onorevole. Magari, che ne so, batti la Svizzera. Poi, adesso non so che ci saremmo beccati. Ma prendi la Germania per dire ed esci. Ci dici, vabbè, ci può stare come nel 2016. Lì feci un campionato, un percorso clamoroso. Passando i gironi, vincendo col Belgio. E poi con la Spagna 2-0. Lì feci più di quello che ci si aspettava. E lì la qualità tecnica di alcuni giocatori era veramente bassa. Per quanto c'erano i soliti Barzai, Bonucci e Chiellini. Che comunque la differenza la facevano. Questa partita invece è proprio male, 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 male. Non so che dire, ragazzi. Allora, vi lascio la questione a voi. Fatemi sapere nei commenti cosa ne pensate. Mi dispiace di non aver fatto i video prima. Di solito li facevo un po' di tutte le partite dell'Italia. Ma non lo so, questi giorni non ho avuto tanta voglia. Ho pensato, ok, dagli ottavi mi metto sotto. Lo faccio per ogni partita. E una sola. Quindi farò questo video. E poi ci vedremo di nuovo direttamente domani. Per un nuovo argomento legato alla Roma. Finora ho parlato poco di mercato. Ma perché ne ha scontato a mente tante. Che non mi viene da credere a nessuna di queste. Potevo parlare di Varane oggi. E subito dopo arrivata la smentita. Quindi, boh, facciamo che lascio perdere. E vediamo un po' se ci saranno aggiornamenti più importanti. Su altro tipo di giocatori. Detto questo, ragazzi. Allora vi invito a scrivermi nei commenti cosa ne pensate. Un saluto a tutti. E sempre forza Roma, però. Forza Italia. E speriamo di rialzarci. Soprattutto per qualificarci al prossimo mondiale. Non voglio neanche pensare che tu, per tre volte di fila, non riesci ad arrivare al mondiale. Un saluto a tutti. Alla prossima.